Rischia il cortocircuito la coalizione di centrosinistra a Termoli dove nulla è quello che sembra e dove l'implosione è sempre più vicina dopo il documento fatto arrivare ieri durante una riunione organizzata dal PD a firma dell'UDC e dei socialisti. Si conferma la possibilità di un'alleanza e di correre insieme per vincere ma a patto che si cambi il leader, insomma che Angelo Sbrocca faccia un passo indietro. Dunque il vincitore delle primarie del 6 aprile di cui non vengono messe in discussioni capacità e doti personali non sarebbe il candidato giusto per fare sintesi. Sintesi che invece centristi, socialisti e rappresentanti di una civica che fa capo a Stefano Perricone e Degno De Felice riconoscono nell'avvocato Oreste Campopiano di cui però nella lettera non si fa menzione. Il documento che rompe come una bomba una settimana dalla presentazione delle liste mira a far saltare le coperture e le trattative sotto banco perché a sentire i firmatari all'interno della coalizione sarebbero in tanti a fare il doppio gioco e gli stessi vertici regionali che hanno appoggiato Sbrocca alle primarie avrebbero poi successivamente chiesto di lavorare a un'alternativa. Il possibile cambio in corsa se da un lato assicurerebbe l'alleanza con i centristi dall'altro rischia di provocare l'abbandono di molti di quelli che già avevano dato la disponibilità a entrare in lista. Tutto ora passa nelle mani del governatore Frattura che subito dopo Pasqua dovrebbe scendere sulla costa per incontrare i vari interlocutori e decidere se benedire la candidatura di Sbrocca peraltro già democraticamente scelta dai cittadini o invece sancire la sostituzione con Oreste Campopiano.